Ah, cosa potrei dire io di Pietro Rocchetta Casadio? È una persona meravigliosa, un amico stretto al mio cuore. Sono anni, tantissimi anni che lavoriamo insieme. Qualunque progetto io ho, lui è la prima persona che io voglio confrontarmi. Perché questo? Perché è una persona affidabile, un professionista serissimo. Qualunque cosa tu fai, lui trova il modo, il metodo di fare, di migliorare. Anzi, ti dà valore aggiunto al tuo lavoro. È una persona che potrei lasciare ad occhi chiusi i miei set perché so che quando torno trovo tutto perfettamente come avevo immaginato. È uno intuitivo, riesce spesso a capire anche quello che voglio io. Poi è instancabile. Di solito io non mangio, non bevo, non dormo quando sono dentro i miei progetti. E lui è una delle pochissime persone che riesce a starmi dietro. Non mi dice mai, sono stanco, vado a casa, vado a dormire. No, lui sta sempre là. Va a dormire dopo di me e arriva su set ancora prima di me. Dunque, dovunque io andrò nel mondo, Pietro sarà la persona che vorrò sempre al mio fianco.